Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video se vi chiedete perchè ho queste cose in testa appena ho fatto di fare un video smr quindi avevo queste cose in testa non avevo voluto togliermi l'ho detto ma si facciamo un video allegro dove c'ho i fiori in testa senza motivo allora ho fatto questo video perchè mi è venuto in mente stamattina, ho detto non l'ho mai fatto questo tipo di video, facciamolo Sara allora praticamente questo qua è il pro e il contro di avere un letto sul palco non potete notare, puoi mettere una copertina carina ovviamente il pro e il contro di avere un letto sul palco ho sentito che comunque mi piace il letto sul palco tutti piace il letto a castello il mio è sul palco perchè è un letto matrimoniale sospeso per aria è tenuto su sono sotto e il letto è sopra allora quindi farò adesso un video dedicato al mio letto il pro e il contro di avere un letto a 1,85 m da terra il mio è di Ikea è semplicemente nero, c'è bianco e nero i miei di Ikea allora vediamo un po' la piega l'altro allora Ipro la cosa bella è che io ho notato molto spesso da quando ce l'ho che anche se alzate la persiana la luce difficilmente vi arriva in alto quindi se siete persone che vi piace dormire con una luce ma non troppo accecante è perfetto il letto sul palco perchè comunque anche al mattino tipo stamattina volevo dormire un po' di più ho comunque asato la persiana tu adesso però lassù la luce non ci arriva totalmente puoi rialzare tutta la persiana o almeno a metà e questa è la cosa buona un altro pro è che comunque se c'è gente o qualsiasi persona rifare il letto in una maniera un po' più strategica anche se al di libero fa schifo nessuno vede il letto su realmente non è che salgono dalla scala perché con le scarpe se salgono le ammazzo quindi non vedono veramente il tuo letto quindi lo puoi sistemare un po' alla buona e meglio e quindi giù per su è comunque comodo è comodo anche diciamo per guardarsi il film non è male perchè comunque hai un letto su io ho il perpendicolare anche alla tv infatti se vedete la mia tv è alta non è male bisogna solo spostarsi un po' con i cuscini però per il resto è abbastanza comodo quindi sui pro diciamo che è un pro un contro perchè poi dopo vi spiegherò nei contro perchè ci sono anche dei problemi perchè se siete da soli un conto se siete con altre persone no diciamo che allora per dormirci è comodo l'unica cosa un po' scomoda è quando dovete andare in bagno avendo una scala diciamo che se vi scappa la pipì in una maniera esagerata non è comodissimo è comodo per il fatto che comunque avete tutto su nel senso che io tengo su tutto dal magari la medicina all'acqua coperte vali se mi servono peluche ciò un po' di tutto scottuso anche il caricatore del telefono ed è comodo appunto se volete vedere dei film volete spaparanzarvi tutto il resto e se vostra madre entra in camera su non vi vede perchè io metto i cuscini a volte mia madre non capisce se sono nel letto pure o no questa è una cosa molto pro altre cose allora contro purtroppo allora io lo sto ultimamente odiando ma perchè se c'è il mio ragazzo e vogliamo guardarci dei film farlo salire su sembra un problema perchè essendo che io non lo faccio mai il letto perchè non c'ho voglia devo tirare su tutte le coperte mettere un telo e farlo su è terribile quindi il più contro dei contro è per rifare realmente il letto il fatto di rifarlo o cambiare le lenzuola è un'agonia perchè pensate di dover togliere tutto dalla sopra e dove lo appoggiate normalmente uno quando fa il letto appoggia le cose devo buttare per terra o le cose sulla schivania come anche esempio quando rifate l'armadio o si stavate le cose dove le mettete nel letto io non posso perchè il letto è su dove per metterci le cose su è scomodissimo io devo un altro contro è il fatto di andare in bagno se vi scappa la pipì o avete problemi di influenza intestinale io dormo sul divano non dormo nel mio letto perchè è scomodissimo altra pecca è purtroppo il fatto di io mi porto spesso le tisane mentre dormo non avendo un comodino ma avendo la sbarra di ferro cioè la sbarra di legno mi è capitato più volte che mi sono rovesciata addosso le cose quindi non posso cambiare le lenzuola quindi spesso ho dei doppi lenzuoli che se si bagnano li tolgo e li rimetto l'altro contro è purtroppo il fatto di quando sei stanca la sera che vuoi metterti nel letto nel mio ti devi fare pure le scale non è fantastico soprattutto se hai male a una caviglia o a un piede non è il massimo o qualche altro arto quando mi sono tatuata tipo devi reggerti anche con le braccia non è proprio il massimo hai sui pro e i suoi contro diciamo che se avete una stanza piccola e purtroppo il letto non lo potete mettere per terra è un grande pro nel senso che esiste anche se mi hai preferito quello che esce dal muro e ti scassa per terra per finire per vero quello purtroppo la mia stanza è piccolina però tutto sommato a me piace il letto a soppalco per alcuni versi diciamo che se avessi una stanza più grande non avrei mai preso il letto a soppalco sono sincera magari l'avrei fatto in qualche altro modo piuttosto avrei preso il letto contenitore che sinceramente è molto meglio molto più però purtroppo se io metto qualcosa sotto la schivania la libreria la scarpiera la cassettiera e altre cose dover toglierle e dove me le metto ci ho pensato a farmi la camera in due piani però è un po' complicato perché potrei andare su e penso di crollare giù perché non quando è dormirci per fare altri tipi di attività agonistiche sul letto vi posso sicurare che non crolla perché molti me l'avevano chiesto in privato lo dico con una sincerità è a prova di 200-300 kg quindi state tranquilli non crolla nulla si muove ma non crolla piuttosto fa un po' di rumore però tranquilli c'ha tutte le doghe sotto quindi l'unica cosa che non potrete mai fare è girare il materasso io non ci riesco sono due anni che ci provo non ci sono ancora riusciti e più che altro è un po' scomodo quando dovete ridipingere la casa perché per spostarlo io non l'ho ancora spostato infatti la mia stanza l'abbiamo ridipinta solo due volte in 12 anni quindi un po' di problema quello lì si però vabbè basta coprirlo in qualche modo però di per sé il letto è comodo non è scomodo ovviamente se ci dormite in due non è facilissimo dormirci ovviamente per una coppia prendetevi un classico letto normale se poi lo spazio è poco è solo questione di abitudine tutto qua io comunque mi trovo bene perché comunque la cosa diciamo che è positiva guardate se vedete positivi di avere un letto con la scala è che sotto ci potete attaccare quello che vuoi in un'altra parte c'è un'amica che ci ha messo anche le tende sotto ci ha fatto tipo la cabina armadio lei aumenta la stanza ce l'ha leggermente più grande della mia quindi lei ha comunque avuto il suo palco bianco se l'è preso e poi ha messo tipo le foto ci ha messo la tenda e sotto ci ha fatto tipo il guardaroba quindi dipende molto anche se ovviamente siete troppo alti come il mio ragazzo che siete alti tipo 1,80 qualcosa è scomodo perché date le cornate siete alti come 1,66 allora vabbè perché io ci arrivo ma non tocco il mio ragazzo intanto dà un certo capate dipende anche da quanto siete alti quindi questa scelta però dai che ci sono tanti gadget carini dal fatto di appendere le cose c'è il posto delle comandi c'è tantissime cose che potete comunque attaccare a questo letto che comunque non è brutissimo diciamo che in alcune circostanze non lo adoro però devo dire che in altre situazioni mi è tornato comodo soprattutto per nascondermi non scherzo però per il resto ci si adatta la mia stanza è molto piccola infatti potete vedere che è questa la mia stanza è tutto questo quello che vedete voi dopo sulla parte della schivania non c'è nient'altro purtroppo poi farò un room tour aggiornato sulla mia stanza perché sto portando delle migliorie però come potete vedere il mio diploma è lassù in cima perché non potete metterlo troppo basso perché se mi muovo lo urto lo spacco e poi ho messo per la porta il mio portafortuna che spero non mi cadrà in testa no va bene tipo la mia porta è nascosta che ci sono i giubbotti perché non potevo permettermi di mettere la tacca panni da altre parti perché prima ce l'avevo qua se l'ho messo qua ho due mensole ho due mensole pieni di roba di Harry Potter che bello oppure il mio portafortuna oppure il mio portafortuna personale ho le mani che sono ancora di scrub che ho usato prima per fare video ASMR però non è male devo non me lascio acquare dopo e niente questi sono i pro incontro di un letto sopra il coso avete altre domande magari volete comprarlo o non volete comprarlo siete incerti chiedetemi pure sotto nei commenti se siete arrivati alla fine del video mettete hashtag letto a castello o hashtag il cuscino io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video